bella ragazzi siamo in pirananas e siamo tornati con un nuovo video e siamo ancora con i pokemon però non è disegna il pokemon ma è gioca con i pokemon esattamente abbiamo cercato di riportarvi la serie che tanto avete apprezzato in molti non so se tutti l'hanno vista comunque avrete il link in descrizione del vecchio video dei pokemon no non l'avrete perchè è brutto comunque a molti è piaciuto quel video quindi abbiamo trovato il video che è fatto per noi per continuare quella serie ovvero abbiamo trovato il gioco adatto non so ancora come l'abbiamo trovato però si chiama pokemon marron merda un nuovo colore e praticamente gli insulti che noi facevamo dire a quelli li dicono da soli adesso quindi non c'è bisogno di inventarsi modi strani per farli arrivare e vi assicuro che è un taglio abbiamo giocato tipo 5 secondi per vedere un po' com'era se funzionava più che altro è veramente figo possiamo iniziare inizio direi scusate se guardiamo qua però abbiamo cercato di mettere al meglio la telecamera quindi ok direi di dare l'inizio arriva questo qua con tipo bermuda bermuda si appena torno da hawaii ciao brutto pezzo di coglione ciao molto tranquillo che cazzo vuoi? niente scusate vorrei giocare infatti vuoi giocare con sta merda di gioco? giochiamo certo allora stammi a sentire bene cazzone questo è bobby il mio cane bello ma che cos'è? che cos'è? non è un cane aspetta è un vaso con una palma oppure un pezzo di merda? a me deve fare tipo una lumaca con un televisore con l'antenna sopra con l'antenna sopra con l'antenna sopra con l'antenna sopra con la lumaca portale non è un cane comunque ma sentito? no non è un cane non è un cane metti in dubbio le mie conoscenze si cosa che io ho studiato da cosa? da cosa? da pieno noi due a te ti facciamo un culo così si si certo quello soprattutto fai un culo così il pezzo di merda professore diventatore del gioco giusto giusto quindi tu puoi giocare al gioco dei the school's ma lo sai che non è tanto alle merdacce come te? ma lo dice te ma quello merdacce come un bastone ha fatto sto gioco vabbè voglio si voglio si voglio dimmi allora chi sei? hai il cazzo la mia? diciamo che ho il cazzo boss di traverso perché vuol tipo new name allora adesso una cosa importantissima perché questo ce lo partiremo fino alla fine si è il nome vabbè abbiamo trovato un nome ci chiamo Duccio così è il nome che mi permette si c'ha la faccia da Duccio questo Duccio? che nome di me guarda così dice pure lui mamma è si Duccio si dai Duccio sto coso con quale non si sa che è ma cosa cazzo pensavo tua madre? quando ti ha chiamato Duccio fatti cosa pensava? coraggio siamo seri fa cariare grazie ti sei offeso per caso? no no tranquillo se ti può consolare se ti può donzolare se ti può consolare la tua faccia fa ancora più schifo del tuo nome grazie devo dire grazie ti solleva questo tipo che se mi sei preparato non ha tempo da perdere comincia a fare qualcosa di utile cominciamo Duccio diventa Ducetto ma non va bene sta cosa non va bene intanto vediamo Duccio che balla non so che ma perché tutto si muove? che è ascensore? che è? oh namo ok dobbiamo uscire io non ho ancora capito in che pokemon stiamo dentro al camicino dei post ecco perché ecco perché ci mettono tanto i post post italiane sp ma è sì 5 euro zoccola la madre si chiama zoccola Duccio dove cazzo sei stato? ah ma che numero un per cazzo ormai penso del S maggiore N eh direi questi bovioni ci stanno svuotando i ladri Duccio zoccola non rompermi il cazzo mamma è pesante come rispondere tutti ai vostri madri come vose chiamarmi così l'ho letto nei sottotitoli e chi cazzo ha scritto i sottotitoli va a parlare col produttore eh namo na vai zoccola vai zoccola visto Duccio ci stanno distruggendo la casa no e vabbè oh zoccola sinceramente a me che cazzo me ne frega c'ha ragione ahi capo guarda se ti fiega a te che è casa tua non lo so Duccio coglione vai in camera tua a 70 anni ancora le dici di andare in camera che dove una madre vattene vattene guarda che pirla oh mamma mia gli sta bene Duccio ok li siamo in camera nostra e mo e mo si mette a fare un gameplay beh ragazzi sono Duccio sono tornato con un nuovo video vabbè amori se ne riannamo zoccola Duccio vai a vedere che bel gioiellino di orologio che hai comprato per la tua camera già stai calmata la madre si infatti prima pezzo di merda strunzo che orologio hai comprato è qui questo penso si eh bello l'orologio non funge bello bello zoccola l'ho comprato da me l'orologio no vabbè troppo evo ah dei mettonora ok ok abbiamo che sono sì sì che sono sì è giustissimo come cosa eh zoccola Duccio quel frocio di un professore che ti cercava e perché cosa voleva vai a fare un passo da voi credo che abbia un debole per te fossi in temi un uomo di vasellini ma che gioco è vabbè gangbang con i vecchi oh che palle sono zoccola mamma mia davvero oh Duccio Duccio vieni muoviti zoccola ecco prova questa marca dicono sia ottima che marca basi lì abbia di cura del vostro vertugio lui avrà ancora di voi parole sante figliolo parole sante a proposito Duccio perché non vai a trovare quel baldracone della casa a fianco apprezzi molto contenuti minchiamoci allora dobbiamo andare dal baldracone dobbiamo andare no dal professore dal baldracone del bichino no dal professore chi cazzo sei scusa eh dentro più stai tranquilla puntini 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 ma chi cazzo gli ho autorizzato ad entrare eh ah vuoi quel baldracone eh è di sopra vai pure se posso ma ricorda di la mancia poi che mai era la fia perché probabilmente non era la fia prima cosa la vai mani sterilizzamose un attimo non si sa mai andiamo da sto baldracone ecco il fiocchetto già sta cazzo questi si ripornano con il pagamento e non ci sono più si ripornano di una volta eh che cazzo vuoi puntini 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 ah sei tuccio sono 100 euro all'ora minchia ma cazzo per fare cosa va al dracone quello che Rocco S si freddi fa 6 volte al giorno alla fidanzata un monologo tra gli goldoni ma no l'amore no l'amore no ma l'amore dov'è l'amore conza la merivisione la merivisione la merivisione no raga vabbè è finito il video se guardiamo la merivisione bella bella